Cosa diavolo è questo allarme? Questo è l'allarme che io ho installato e suona nel momento in cui avviene l'ennesima intrusione a palazzo dell'ennesimo tiktoker famoso. Ma signor imperatore, lo chiedeva a me e l'avrei installato io. Dieci volte te l'ho chiesto. Dieci! Ah sì? Guarda, lasciamo stare. Ad ogni modo si tratta di ben due tiktoker famosi che si trovano in questo punto del palazzo e stanno scroccando il mio wifi. Aprite, sappiamo che siete qui dentro. Oh merda, cosa diavolo facciamo? No, vediamo se internet sa qualcosa. Oh, sai presto, fai presto! Sì, ecco, 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 dobbiamo fare così! Amico, sei sicuro? Fai come ti dico! Ma cosa diavolo stanno facendo? Chi? Quei due? Signore, qui non ce ne sono. Ma stanno lì? Signore, la stanza è vuota. Ma cacchio, non li vedi? Possessi saranno nascosti molto bene. Ma cos'è sta cataratta improvvisa? Signore, lei è pazzo! Ah!